Registi italiani a Ortigia, Siracusa a favore della difesa dell'ambiente. Gireranno nell'isola di Ortigia e i loro spot sul Natura saranno presentati a Cinecittà. Il servizio di Salvo Frusciano. 30 secondi in favore della salvaguardia ambientale sulle orme della pubblicità Progresso. E lo spot filmato dalla regista di Salerno Maria Pia Cerulo, ex assistente di Linever Müller. Scenario prescelto, il mare di Vicoli di Ortigia. Obiettivo dell'iniziativa? Il coinvolgimento dei registi italiani non solo di cinema. Saranno invitati a realizzare un filmato appello della durata di mezzo minuto da utilizzare nelle sale cinematografiche prima della proiezione dei loro film. Autori e testimoni alla decezione dunque, i registi italiani chiamati a dare un piccolo contributo di creatività al fronte della tutela dell'ambiente e della natura. Si fa sempre troppo poco per l'ambiente. Pensiamo che dei registi creativi con un messaggio così continuativo per un anno possono in qualche modo contribuire a far capire alla gente che il problema c'è, esiste molto serio. Testimonio dello spot, la psicoterapeuta siracusana Margherita Spagnolo Lobba, autrice del permesso di creare un libro che privilegi il rapporto uomo-ambiente, natura e città. La prima uscita dello spot insieme col film La festa del mare, che la stessa regista di Salerno agirerà a partire da domani a Siracusa. L'iniziativa sarà presentata a Roma negli studi di Cina Città agli inizi di ottobre. Grazie all'ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, gli spot verranno proiettati nella gran parte delle sale cinematografiche italiane.